Eccellente. Quindi non ci resta che dire ben fatto. E per essere più precisi hai conseguito il dottorato, Steven. Bravo, Steven. Una teoria straordinaria. Grazie. Ora che farai? Anche venerdì, dio cane! Figa nastro! Dio porco! A few years later. Anche venerdì, dio cane! Figa nastro, dio porco! Figa nastro! Figa nastro!